ciao ragazzi benvenuti su italia film collector channel on videomania sono qui per darvi delle news da raro film studios ma lo faremo dopo la sigla ed eccoci qua quindi la news riguarda la prossima 7 edition 7 edition che vi ricordo che è una collezione che riguarda i 7 peccati capitali ringrazio raro film studios per averci fornito la notizia in anteprima e niente volevo ricordarvi le 7 uscite ad oggi il primo fu i wad shot per quanto riguarda la lussuria il secondo fu quarto potere per quanto riguarda l'avarizia il terzo fu willy wonka per quanto riguarda la gola il quarto è stato hulk per quanto riguarda l'ira poi è stato fatto il preorder da poco e anche io l'ho preso il preorder di amadeus per quanto riguarda l'invidia e il prossimo invece sarà barry lindorn per quanto riguarda l'accidia e ragazzi che dirvi non vi parlo del film perché sarebbe assolutamente inutile ovviamente il cofanetto sarà sempre soft touch sempre 500 copie limitate sempre con il gadget all'interno ora vi farò vedere uno dei cofanetti per prendervi l'idea ma l'ho fatto dire anche in altri video ma magari questo è il primo video che guardate anzi approfittate per iscrivervi e attivare la campanella e niente sempre appunto 500 copie numerate quindi vi faccio vedere un po la fattura di questa collezione cioè ragazzi questo con i vari sconti di preorder viene intorno ai 50 euro spedito quindi perché poi uno dice spedizione gratis ragazzi la spedizione alle aziende costa cioè non è che quindi quando valutate il prezzo di qualcosa dovete anche considerare se la spedizione è gratuita o meno cioè ragazzi ci sono materiali cartacei bellissimi il gaggettino particolare che questa pizza con la numerazione dai è un cofanetto che viene appunto dicevo intorno ai 50 euro spedito in preorder tramite lo sconto facebook di 5 euro oppure chi ha il 10 euro del golden ticket come me alla fine viene anche meno di 50 euro e sinceramente a questo prezzo di questa fattura non si trova assolutamente nulla considerando che sono cofanetti che oltre al preorder non vanno mai in sconto è una cosa comunque da tenerne conto la fattura è di altissimo livello poi vi ricordo che per chi acquista tutte e sette i titoli c'è il contenitore raccoglitore anzi per la precisione di tutti i cofanetti quindi ovviamente in omaggio da parte dei raro film studios ma di cosa stiamo parlando è una collana davvero particolare forse unica nel suo genere ha raccolto tanti generi di film e ci saranno ovviamente ancora delle sorprese non ultimo appunto barry lindon che sta diciamo è un titolo che non appunto non devo spiegarvi io ovviamente in blu ray ha una cosa che tenevo un po a sottolineare sui social quando raro film annuncia un film o un'edizione si tende a chiedere nuovo master nuovo nuovi extra allora ragazzi questi non sono titoli borderline chi mi vuol capire mi capisca non si possono aggiungere extra perché non si può andare a mettere mano su un film warner o su un film universal e mettere extra tuoi a meno che non hai tante come diceva napoli paparelle e quindi c'è sono domande un po anche fine a se stesse quindi sono i dischi che escono in commercio la particolarità che fa raro film è che ci regala edizioni da collezioni da collezione e di pregio per titoli laddove magari non c'è oppure fa uno step in più a qualche edizione da collezione che è già uscita oppure dove c'è l'edizione da collezione magari ufficiale è andata fuori catalogo cioè è un prodotto destinato a chi ama le cose belle anche esteticamente oltre ovviamente il titolo è importante ovviamente i master usati sono importanti ma ad oggi e sottolineo ad oggi non chiediamo a raro film diciamo gli extra in più o i restauri su prodotti ufficiali di major ripeto non sono film o titoli borderline non si può andare a mettere mano i titoli dove si può mettere mano sono altri niente io vi saluto spero che la notizia sia stata gradita ci vediamo presto su questo canale ciao a tutti